Buongiorno, buongiorno e ben trovati in questa edizione. La edizione di mattino 6, una edizione che fa finire il mese di agosto. Sarà un lunedì particolare perché questa sera saremo in onda per seguire le ultime ore di calcio mercato con collegamenti dall'Ata Hotel di Milano. Lo faremo nel corso della trasmissione replay che riprenderà la fortunata trasmissione condotta da Enrico Rocchi. Dunque un ritorno nel nostro palinsesto per seguire le ultime ore di calcio mercato dopo che i giorni scorsi sono stati caratterizzati in particolare dalle inchieste sportive, e soprattutto quella che ha riguardato il Teramo con la condanna anche in secondo grado e quindi la B che non sarà più disputata dal Teramo a meno che non ci siano colpi di scena, magari col terzo grado di giudizio, però insomma il Teramo ripartirà dalla Lega Pro con 6 punti di penalizzazione in Serie B Pescara e Virtus Lanciano. Detto questo iniziamo la nostra rassegna stampa come tutti i lunedì, spazio nei primi 15-20 minuti alla cronaca e poi l'ampia pagina di sport con Gazzetta, Corriere e poi Centro e Messaggero con le pagine locali sportive. Prima però le testate nazionali, andiamo sulla Repubblica, ecco qui l'apertura della Repubblica, immigrati, i tir della vergogna, l'ONU subito summit mondiale, Austria gravi tre bimbi in un camion, Grecia militari sparano sui trafficanti, morto 17enne. E poi ancora la fotonotizia, la copertina Io tra gli Stones e i Beatles, la verità di Keith Richards, l'editoriale di Eugenio Scalfari, il Papa, i migranti e l'aiuto degli angeli custodi. In basso, terrorismo, l'Europa blinda i treni, biglietti nominative e pattuglie miste, la decisione dei ministri UE. In basso il racconto, l'incantesimo delle armi che ha regalato la mia America e poi il personaggio, l'ultima sfida dello zar Putin a New York, dieci anni dopo. L'intervista, il presidente di Israele, l'ultra destra, è un pericolo. Lasciamo la Repubblica e andiamo alla prima pagina del giornale. Frontiere chiuse per noi, le follie dell'accoglienza e caos immigrazione. Ora Londra vuole vietare l'ingresso anche ai cittadini UE senza un lavoro. Intanto, coppia massacrata in villa, fermato un profugo. La rubrica controcorrente, fare il pirata delle strade conviene, calano gli incidenti, aumentano i fuggitivi, hanno il 40% di possibilità di cavarsene. Poi, come scrive il giornale, i rivoluzionari di Velluto, si parla di Vauro, il vignettista nemico dei padroni che vive nel superattico da ricco. In basso, lo scontro a sinistra. Renzi chiede la tregua alla fronte a PD. Il premier vuole congelare lo scontro fino al 2017. Polemiche con Prodi, D'Alema e Letta. Il fondo del direttore Alessandro Sallusti si riferisce al fatto quotidiano alla Repubblica, il cancro non curabile dei guerriglieri anti-berlusconiani. In basso, Roma, una vittoria che conta più della crisi della Juve, poi sempre per lo sport, a Lezione d'Avale. Tutta l'Italia si rimette in moto. Ora la prima pagina del fatto quotidiano. Casa Monica d'Italia, non solo re di Roma. Hanno legami con la grande criminalità organizzata e l'andrangheta, ma soprattutto controllano estorsioni, droghe e racket in molte regioni. Non si chiamano mafia, ma l'attività è molto simile a quella delle cosche e puntano molto in alto. Sotto la testata, frontiere chiuse, immigrati, il muro di Londra. Entra solo chi ha già un lavoro, divieto anche per chi viene dalla UE. Poi deficit si fa lo sconto a Bruxelles, nessuno lo sa. Flessibilità da 17 miliardi, l'annuncio. E poi ancora il capitano ultimo, combatto sempre, indagava sui potenti. Gli hanno tolto i poteri. Poi in basso, il cervello eretico del dottor Sachs, addio al grande neurologo, autore di Risvegli, era malato. Ed ora la prima pagina del messaggero. Messaggero ovviamente versione nazionale. Poi tra poco andremo a vedere anche il messaggero Abruzzo. Intanto vediamo la prima pagina nazionale. Intercettazioni sì entro l'anno. L'intervista al ministro Orlando a settembre ok della Camera, approvazione per dicembre. Caso Roma giusta la scelta di Gabrielli e per il giubileo rafforzeremo gli uffici giudiziari. Sotto la testata, cultura, addio ad Oliver Sachs, il neurologo diventato famoso con i libri. MotoGP, Valentino Re sotto la pioggia, fuga mondiale, podio italiano. E poi ancora l'editoriale di Alessandro Campi, la privacy perduta fra social e terrorismo. La fotonotizia dedicata alla vittoria della Roma sulla Juventus ieri. Roma show, Juve dominata 2-1. Lazio e Batosta col Chievo 4-0. Grande prestazione dei giallorossi. Bianco celesti in crisi. Migranti per l'Italia contro da 3 miliardi. Londra stop alla UE. Spese stimate per soccorsi e accoglienza. Gran Bretagna. Entra solo chi ha il lavoro. In basso, Leni scopre un giocimento record di gas. Poi orrore a Catania, coppia massacrata, un profugo arrestato. La prima pagina del centro, la prima pagina che andiamo a vedere, non appena disponibile, eccola qui. Si parla di un fatto di cronaca. Separazione con botte alla moglie. Pescara, la donna picchiata, finisce in ospedale. Ha arrestato il marito. Poi sotto la testata ci sono un paio di richiami su fatti nazionali e non. L'emergenza, la UE accelera sui migranti. Londra chiude le frontiere. A Catania, coppia massacrata in casa. Sospetti su un profugo. La foto, notizia dedicata ai giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Gli azzurri trionfano con il nuoto e la canoa e conquistano tre ori. Poi ancora i richiami di cronaca. Montesivano, case popolari, a fuoco i rifiuti abbandonati. Stangata del comune a Pescara. Affitti, metà inquilini esclusi dai contributi. Calcio a mercato. L'ultima idea del Pescara è Zaccardo. Poche ore ancora a disposizione. Vi ricordo lo stop alle ore 23 questa sera. Il Buongiorno Abruzzo di Domenico Ragneri, il grande cuore degli ultra e dei campioni. All'interno del centro. Andiamo subito alle pagine delle cronache abruzzesi. Università in 6.000 ai test d'ingresso. 100 minuti per 60 domande. Si parte il 4 settembre con le prove per le professioni sanitarie. L'8 tocca i futuri camici bianchi. Il 9 la prova di veterinari. Il 10 di architettura. Domande in calo rispetto allo scorso anno. E se non si passa, il piano B è riprovare. Uno studente su tre si iscrive a facoltà affini per poi ritentare la prova l'anno successivo. E poi ancora, sempre restando sullo stesso fronte, studenti fuorisede. Pesa il caro affitti. Una stanza singola costa in media 300 euro al mese. L'UDU chiede nuove tipologie di contratti. Lavoro. Funzionano ingegneria e agraria. A un anno dalla laurea, tra il 70 e l'80% dei giovani. Uno ha una occupazione con stipendio netto medio di 1.300 euro. Poi all'Aquila già... Pardon, giù gli iscritti al test di medicina dell'otto sono 677. L'anno scorso erano oltre 1.000. 1.017. Poi flette anche Chieti Pescara. Gli iscritti ai test di medicina sono 1.400. Ateneo di Teramo, a veterinaria, si presenta in 350 per 55 posti. Questo è quanto. Ora andiamo nelle pagine di Pescara. Separazione con botte alla moglie. Cinquantenne picchia la consorte. La donna finisce in ospedale. L'uomo trovato con un coltello arrestato. Tutto questo a cappelle sul tau. E poi, sempre in provincia di Pescara, alcol sul barbecue ustionato dalle fiamme, ma raggiunto al torace dalla vampa, ricoverato al centro specializzato di Napoli. E poi l'inchiesta sul mare sporco. La regione convoca il sindaco. Giovedì mattina, seduta della commissione Vigilanza all'Aquila, nel pomeriggio il Consiglio a Pescara. Sempre a Pescara, stangata sugli aiuti per gli affitti, esclusa la metà degli inquilini. Pugno duro del comune nei confronti delle famiglie indigenti che hanno richiesto il contributo. Bocciate le domande di coloro che hanno detratto dal 730 il canone di locazione dell'anno scorso. E poi il mercatino dei senegalesi, l'ambasciatore in comune. Un fatto di cui si è parlato alcune settimane fa con grande insistenza, circa lo sgombero del mercatino all'area di risulta. La multa mancata al questore, altre sanzioni al vigile delle Iene, ma gittia via nuovi procedimenti, disceminari contro Volpe. Poi il progetto Start Hub, selezione per 25 promotori. Oggi stop alle domande. Poi il quartiere di Fontanelle a Pescara, case e strade abbandonate al degrado. I residenti di via caduti per servizio segnalano la mancanza di interventi. Qui i diritti sono solo dei delinquenti. I politici si ricordano di noi quando si vota. Qui diverse foto che illustrano lo stato di degrado. del quartiere. In via Lazio va a fuoco la discarica abusiva a Montesilvano. Allarme per il ruogo dei rifiuti accatastati. Pochi giorni fa l'ordinanza per la pulizia. Si chiudono i giochi a Pescara Colli Senza Frontiere. Sorprese innamorati. Conquista il trono del Paglio dei Colli. Battuto Cervone che rintesta la classifica parziale. Grande successo di pubblico per la diciottesima edizione. Poi Pienone allo Street Food. Il cibo di strada registra il Pienone in Viale Pepe. Poi a Roccamorice l'acqua delle abitazioni non è stata contaminata. L'Arta rivela come avvengono i controlli degli acquedotti dopo il sequestro dei terreni contaminati da mercurio. Ma in paese continua l'allarme. E poi a Francavilla il taglio del nastro al nido comunale inaugurata la nuova struttura di via Piceni. Ospiterà 50 bambini. Cambiamo provincia. La pagina di Chieti. Idraulico scomparso da 13 giorni. Giovane di San Salvo si era trasferito a Chieti. L'ultimo avvistamento è stato a Pescara. Il caso a chi l'ha visto. Qui c'è una scheda della persona scomparsa. In basso corse, salti e lanci per 150 ragazzi. Campionato interprovinciale del CSI. Gare di atletica leggera con tanto di record personali e stagionali. E poi ancora erba sintetica che arriva allo stadio Guido Angelini a Chieti. A Vasto, no arretata anti-abusivi. Merce nascosta tra le dune. Decimo blitz delle ultime due settimane sulla spiaggia. Piene di turisti e bagnanti. Il comune proroga l'orario estivo di due delle linee urbane dirette alla marina. E poi in basso l'omaggio dello stadio per Nicola. Ed è Nicola De Filippis, lo sfortunato centauro che la scorsa settimana ha perso la vita in uno schianto sulla strada. Era tifosissimo appunto della Provasto. La barra dell'operaio portata all'Aragona. Cori in curva e bandiere appunto in suo onore. E poi la porchetta di lentella e il prodotto tipico 2015. All'Aquila il caso è quello delle tombe troppo alte, demolizioni in arrivo. Polemiche per l'ordinanza del sindaco sui manufatti, anche provvisori irregolari. I visitatori parlano di regole assurde. Intanto il Camposanto è assediato dalle prostitute. Ad Arischia, edificio a rischio crollo, appello dalla frazione per il comune vecchio lasciato nell'abbandono. E poi, questa curiosità, a Bisegna, frazione di San Sebastiano, un orso a passeggio a mezzanotte, avvistato in auto e accompagnato al sicuro da alcuni giovani. Andiamo nella pagina di Teramo. Il dramma a lieto fine, notte nel bosco, Katia torna a casa oggi, la piccola trattenuta in ospedale, anche ieri perché dormendo all'aperto si è raffreddata. Il padre ringrazia tutti. Secondo il parere dell'esperto, l'episodio non le causerà gravi traumi psicologici. Ad Alba Adriatica l'estate boom si allunga a settembre, tante prenotazioni negli hotel e prezzi tornati a salire anche dopo che la località aveva puntato sul low cost. Il pienone di luglio e agosto è stato accompagnato dalla tenuta del mare. Nessun episodio di inquinamento. Andiamo ora a vedere il messaggero Abruzzo, l'edizione abruzzese del messaggero. Si parla della crisi in regione. SEL verifica o al voto? Regione, la maggioranza trema sulla ventilata sostituzione dell'assessore Mazzocca. Di Febo, se le criticità non verranno superate la parola deve tornare agli elettori. E poi anche in questo caso si parla della piccola Katia, parlano i soccorritori, temevamo di non trovarla. Pescara, Atera, Musoduro, via gli abusivi dalle nostre case. Sotto la testata un iennone deluso, solo ottavo, una giornata molto difficile. Basket, Roseto e Chieti alzano la voce, sapremo farvi divertire. Calcio, il Teramo valuta il ricorso al collegio di garanzia del Coni. Nel frattempo si allestirà una squadra per partecipare alla Lega Pro, ma l'amarezza domina per la perdita della B conquistata sul campo. E poi la pescarese Francesca, eletta Miss Abruzzo, incoronata in Piazza Martiri a Teramo con lei alle prefinali di Esolo. Anche Micol. In basso la fotonotizia, Campo Imperatore, rifiuti e degrado. Ecco come è ridotta la prestigiosa località. E poi la nostra regione va in mostra a Westchester, Abruzzesi, nel Mondo. In basso la Dio a Nicola, nello stadio Aragona di Vasto, come detto, squadra della quale era tifoso. L'Aquila, Gran Sasso, Campo Imperatore, le immagini della vergogna, rifiuti e degrado. Biglietto da visita per migliaia di turisti, menù attaccati a una sedia e nel bel mezzo del piazzale, senza servizi. La stazione morirà. Ecco gli scatti che testimoniano il degrado. Poi l'inchiesta redderazione. Indagati in libertà, la procura fa ricorso per il PM. C'è il pericolo di reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Coltivano marijuana, scarcerati coniugi romani. Tutto questo a Montereale. Poi, perdonanza, una manifestazione sconosciuta. In Marsica, ad Avezzano, emergenza senza fine, nuovo colpo in centro. Nel cuore della nottiladri hanno sfondato una vetrina e hanno svaliggiato un'agenzia immobiliare in via Marconi. Terzo episodio in poco tempo, dopo il furto alla storica edicola, e le donne minacciate da una baby gang armata di coltelli. Un ragazzo tenta di robare un computer da un negozio inseguito e bloccato. Pagina di Pescara. Abusivi nelle case popolari. Parte il piano di Sgomberi. La regione finanzia comune Ater per liberare e riassegnare gli alloggi. Si annuncia un settembre di tensione. Costanzi, nessuna pietà per gli illegali. A giorni una riunione con le forze dell'ordine per procedere subito con gli interventi, ha detto l'assessore Adelchi Sulpizio. E poi per la cronaca viene investito dal fuoco acceso per gli arrosticini. Un 49enne operaio di Manopello Scalo ha riportato ustioni su arti e toraci e ricoverato a Napoli in gravi condizioni. Poi come abbiamo già visto, Colle innamorati allo sprint, beffa tutti e conquista il paglio. Trionfa la squadra delle capitane Bruno e Pomponio. Sul podio anche Colle Scorrano e Colle Cervone. Pagina di Chieti, cartelle pazze a teate e servizi. Io, erede di uno sconosciuto, l'incredibile odisse di un cittadino legato al pagamento della tassa sui rifiuti per un errore dell'azienda del comune, riceve tre cartelle di una casa non sua. Serve un modo più rapido per segnalare sviste così evidenti, dice. E poi Nicola, l'ultimo saluto dei tifosi all'Aragona, la giornata del dolore per il giovane operaio in tanti a fianco dei familiari. E poi, come abbiamo visto anche sul centro, trentenne scomparso da due settimane e allarme. Si parla di Gianluca Roberti, questo giovane originario di San Salvo. A Teramo, o meglio in provincia di Teramo, il ritrovamento di Katia. Abbiamo pensato al peggio, il racconto dei soccorritori alla vista della piccola seminuta vicino all'Erbaccio. Una gioia immensa, ma i momenti brutti sono stati tanti. L'incubo era quello del rapimento. La bimba di due anni e mezzo scomparsa e poi individuata a Cusciano di Montorio al Vomano, la piccola Katia. Poi a Giulianova la vigilessa manda via i colleghi dalla spiaggia, stavano facendo le multe sull'arenire riservato ai cani. A Castelnuovo Vomano carambola di automobili, sei feriti, in due sono gravi. E poi in basso, Piazza della Libertà, nel degrado il comitato di Rappagnà accusa. Allora, lasciamo le pagine di cronaca, andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta, poi andiamo con il collegamento telefonico per conoscere l'evoluzione del meteo nelle prossime ore. Allora, come sempre, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, ovviamente in primo piano la vittoria della Roma, ma anche quella dell'Inter nelle partite che si sono giocate ieri pomeriggio e ieri sera. Romagica, Juve a zero, Inter, Jojo fa bis, Marotta compra, preso Lemina, ruole Hernanes. I bianconeri battuti all'Olimpico sono ultimi, ma è così male dal 1912. I nerazzurri soffrono col Carpi ma vincono grazie alla doppietta di Jovetic, oggi assalto a Eder, Oborini e Felipe Melo. Sotto la testata l'impresa del podio tutto italiano nella MotoGP, l'Italia che vale, Rossi trionfa, Silverson, Petrucci e Dovizioso sul podio. Il commento di Umberto Zapelloni così trasforma i sogni in realtà. E poi ancora, viola, pardon, vola il toro, sale in vetta con Chievo e Palermo. Napoli-Sampa e Der Show riprende Igua in Sarri fischiato. E poi, mercato oggi si chiude, tutti gli affari in diretta su Gazzetta TV dalle 16.15. Il Milan cerca qualità, prova con Witzel, l'alternativa è Soriano. Basket verso l'Europeo, Galluo è mezza Italia. Anche la Russia va KO. E poi l'analisi di Luigi Garlando. Stavolta Garcia sorpassa Bolt ma occhio a Mancio. Allora, andiamo a salutare e a dare il buongiorno a Giovanni De Palme di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E allora, sarà ancora caldo nelle prossime ore? Sì Andrea, sicuramente perché la nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta area di alta pressione di matrice nordafricana che favorisce condizioni di tempo stabile su gran parte della nostra penisola e determina temperature piuttosto elevate, soprattutto nei valori massimi, in particolar modo nelle principali valli della nostra regione. Dalle ore in meno elevate si registreranno oggi lungo la fascia costiera, dove tuttavia i tassi di umidità saranno particolarmente elevati. Sono previsti un interiore aumento, ma questa struttura di alta pressione inizierà ad avere i primi segnali di cedimento a partire da domani, ma ancora più nei prossimi giorni, perché arrivano le correnti atlantiche che in questo periodo iniziano ad essere piuttosto vivaci e quindi tali da demolire la forza struttura di alta pressione che è attualmente presente sul Mediterraneo centrale di Bissi. È legito aspettarsi un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì, ma ancora più nei prossimi giorni, perché nello scorrimento di queste correnti atlantiche che arriveranno, proverranno dai quadranti occidentali e dal Mediterraneo occidentale, fauderanno la formazione di corpi nuvolosi che, da un lato è pur vero che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, marginalmente questi corpi nuvolosi potranno estendersi e interessare anche le regioni centrali, quindi anche la nostra regione potrebbe essere interessata da nuvolamenti a partire da giovedì e nei giorni successivi, con possibili fenomeni temporaleschi. Questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti, poi per un peggioramento un po' più deciso forse dovremmo attendere la fine della settimana e i primi giorni della prossima settimana. Quindi una situazione particolarmente di difficile previsione attualmente nel dettaglio, almeno per quello che si prevede da mercoledì e giovedì in poi. Mentre nelle prossime ore, nella giornata di domani, non cambierà di molto la situazione sulla nostra penisola e sulla nostra regione, continuerà a splendere il sole e le temperature risulteranno ancora al di sopra delle medie stagionali, Andrea. La tifoso biancazzurro, Fremi, per conoscere gli ultimi colpi del Pescara in questa ultima giornata di mercato, immagino in una settimana, che poi sarà la settimana tipo che riprende, perché poi nel fine settimana si inizia. Sì, è vero, si inizia. Andrea, sì, oggi è la giornata cruciale, la giornata più calda, non solo dal punto di vista meteorologico, quindi concedimi questo paragone simpatico. Diciamo che sì, è legge di aspettarsi anche dei colpi, gli ultimi colpi di mercato, ma questo è un classico, soprattutto nell'ultimo giorno, quando escono proprio le trattative, diventano febbrili e frenetiche, insomma. Quindi aspettiamo. Domani daremo un giudice su quanto ha fatto la società, che al momento ha fatto l'errore di farsi fuggire Salamon, ma l'altra parte dell'offerta era troppo, troppo allettante, quella dei Sardi, per il giocatore. Quindi c'è stato anche un piccolo errore, magari hanno sottomalutato questa offerta. Però ecco, a parte questo, diciamo che la società sta lavorando bene, e aspettiamo le ultime, domani daremo un giudizio complessivo sul mercato della società, Andrea. Grazie, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata, buon lunedì. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Proseguiamo con la Gazzetta dello Sport, pagina 2 e pagina 3, ovviamente in primo piano Roma-Juventus, signora Roma, Pianic e Dzeko schiantano una piccola Juve. Il peggior avvio della sua storia è dalla parte opposta, insomma, pagina 3. Il personaggio è proprio Dzeko, gli basta una zuccata per interrompere lo sciopero dei tifosi. Le parole del capitano Buffon, capitano della Juventus, sono diventate grandi. Non avremmo meritato il pari, ammette onestamente il portiere della Juventus. Vediamo sul fronte Inter, come commenta la Gazzetta, la vittoria di ieri col Carpi, un altro grazie a Jovetic, last minute. Che fatica col Carpi, ma intanto è prima doppietta del Montenegrino, che decide sul rigore dopo il pari di Di Gaudio, i nerazzurri unici fra le grandi in vetta. Il numero 3, i gol di Steman Jovetic per l'Inter in questo torneo. 1 all'Atalanta, 2 al Carpi. Il personaggio è sempre lui, i tagli, finte e tacchi. Ecco l'ombre verticale che serve a Mancini. Oltre ai golli alla classe, il Montenegrino è stato anche l'anima del nuovo sorpasso. Ma sarò al top tra due mesi, dice il giocatore spesso. Intanto sul fronte mercato, l'Inter spinger per Eder, Melo all'ultimo minuto. Jesus blocca l'esterno. Milan, vincente con l'Empoli sabato sera. Finale a sorpresa tra Vizzele e Soriano. Il belga ha anche un offerto data dalla Premier per il brucerchiato conteso dal Napoli. Gagliani forse ha la chiave giusta all'inserimento di José Mauri. E poi ancora una bella viola, passisce in 11 minuti. Attenti al Toro che si è imposto in rimonta 3 a 1. E poi il pari tra Napoli e Sampdoria 2 a 2. Eder pareggia Higuain e il San Paolo già contesta. Il Napoli si fa riprendere dai due gol dell'italo brasiliano della Samp. Sarri senza vittoria, insulti a De Laurentiis. E poi ancora, andando avanti, la pagina dedicata alla Serie B, passando prima dal calcio internazionale. United capò con lo Swansea. Fangal è all'anno zero. In 14 mesi l'olandese ha fatto spendere 320 milioni, ma l'equilibrio è lontano. Difesa in sicura. Un dilemma fra i pali e Schweinsteiger involuto. Arriviamo ecco qui alla Serie B. Bari anche Rosina, si scatena Lascoli, due botti in Umbria. Della Rocca Valperugia, Signorelli alla Ternana, Provercelli, Rossi e Pigliacelli. Saernitana su Lodi, il Novara si fionda su Buckel, idea Pellitzer per il Pescara. Spezia torna Stevanovic. E poi in basso Lega Pro ancora senza pace. Oggi i reintegri, poi il format. Poi vedete le sentenze. Tre anni a Campitelli, delle piane prosciolto di Nicola Radiazione. Tornando appunto all'esito delle sentenze del secondo grado. In particolare il riferimento al processo su Savona-Teramo. Un ultimo sguardo agli altri sport prima di andare in pubblicità. La MotoGP, un diluvio azzurro. Vale, tempesta perfetta. Con Petrucci e Dovizioso, tricolore sul podio di Silverson. Rosse ribalta il pronostico e centra il centododicesimo trionfo. I Ducatisti tolgono punti a Lorenzo. E poi c'è la rabbia di Horge. Colpa della visiera appannata. Potevo battere la Ducati e sull'asciutto vado più forte di Valentino. Marquez una caduta che sa di beffe. Poi le parole del vincitore. Mamma che gara, come fare a piedi, tavuglia Austria. Mi sono rilassato quando Marquez è caduto. Errore per il campionato cambia poco. Horge è uno tosto. E poi ancora andando avanti ci sono le pagine del ciclismo e del basket. Per il ciclismo Frum rugisce, Aru resiste. Welta, Chris attacca e beffato da Dumoulin. Nuovo leader, ma cresce. Fabio, quarto a 16 secondi. Vediamo anche il basket perché sono alle porte le partite del campionato europeo. Ieri l'ultimo test per l'Italia. Fa tutto gallinare. L'Italia si impone col solito blackout. Russia KO 32 punti, 10 rimbalzi per Danilo. Pianigeni ci siamo fermati contro la zona vittoria 68 a 63 per la squadra azzurra. Ripeto, l'ultimo test prima del campionato europeo che partirà tra circa 5 giorni. Noi per il momento ci fermiamo, poi rientreremo con il Corriere dello Sport, centro messaggero e poi vedremo anche alcuni servizi. Di nuovo buongiorno. È la seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo come promesso con il Corriere dello Sport che titola così. GECO, ciao Juve, la Roma domina, i bianconeri mai così male all'avvio. Decidono i due bosniaci, Pjanic, poi il bomber, Di Bala segna tardi. Marotta prova a correre ai ripari e va sulla mela. Hernanes si offre. Ioio è l'intervola, Napoli che rabbia. Jovetic gol, Mancio in testa con Palermo, Toro, Chievo. Azzurri dal 2 a 0 al pari. Crollo Lazio, cade la Fiorentina. C'è l'opinione del direttore Alessandro Vocalelli. Se Chiellini non riesce a spostare GECO. E poi in basso, ora per Sarri, c'è Cialobà ed Rmelo verso Mancini. Milan sogna ancora Witzel per la MotoGP. A Silverson, Ducati protagonista e Valentino Sciò rivede il mondiale. Petrucci è dovizioso sul podio. Ovviamente subito pagina 2 e pagina 3 su Roma-Juve. Juve in crisi, ha perso cattiveria e serve più qualità. Le due sconfitte di file impongono serie riflessioni. Un regista vero e il trequartista. Ecco cosa occorre. Sfuma Draxler, ora idee. Hernanes e la mela. GECO PIANIC insieme. Che forza, Edin. Io festeggio per il gol. I tifosi per il bel gioco. Miralem, merito della Roma. Se lui è qui, non mio. E poi ancora, sempre su Roma-Juve, che festa e l'Olimpico esalta la Roma. PIANIC, palo e 1-0 pennellato. GECO imperiale, brutta Juve. Di bala non basta. Evra espulso. E poi ancora, andando avanti, con la pagina sul Napoli. Pari incubo, lo show di Eder frena il Napoli. La pagina sull'Inter. In testa alla classifica, punteggio pieno. Iovetic a passo di carica. Ancora Ioiò decisivo. Due gol a Carpi dopo l'1-1 di Di Gaudio. lanciano l'Inter in vetta. E qui c'è la stessa foto che abbiamo visto sulla Gazzetta. Con Iovetic, che esulta dopo il gol partita. Abbracciato dai compagni. Sei punti, tutti griffati dal Montenegrino. Intanto si parla nelle pagine anche dei colpi di qualità di Guarin. E i troppi brividi in difesa da parte, fatti correre da Miranda. Andiamo avanti a vedere la pagina di mercato sul Milan. Intrigo per Witz. Il regista belga ha scelto i rossoneri. Ma lo Zenit sta giocando a rialzo. E dietro c'è la Juve. La pagina della Serie B. Vedete la foto dell'ex biancazzurro Bartosz Salamon. Un Cagliari tutto nuovo per Rastelli. Oggi la firma di Salamon chiude di fatto il mercato rosso-blu. Squadra rifondata senza essere snaturata e con un occhio sul futuro. Benedetti andrà via. E sempre sul fronte mercato. Vedete Caputo o Cacia per il Pescara. Terni, Signorelli. Ascoli, Marroco, nuovo DS. Lega Pro, Lupoli va al Pisa. L'Ascoli intanto, mentre c'è un problema sul nostro iPad che cerchiamo di ripristinare, stavamo leggendo appunto dell'Ascoli che fa festa a Lanciano. Cerchiamo di recuperare subito la pagina. Ecco qui, l'Ascoli fa festa a Lanciano. Come vediamo, ieri c'è stata appunto l'amichevole. Poi vedremo a tal proposito le dichiarazioni del tecnico della Virtus D'Aversa. Ieri l'Ascoli con un nutrito gruppo di tifosi allo Stadio Biondi, proprio per festeggiare la B che era stata, diciamo così, assegnata indirettamente dall'esito del processo di secondo grado per l'inchiesta su Savona-Teramo. Rivoluzione Bari, Magnero e Rosina, 16 nuovi con i due acquisti appunto degli ex catanesi. Chiudiamo qui con il Corriere dello Sport. Ora iniziamo la rassegna stampa con le pagine sportive del centro. Andiamo subito a vedere il mercato. C'è chiaramente il mercato in primo piano, il mercato di Biancazzurri. Pescara pensa in grande, sogna Zaccardo. Spunta l'ipotesi del difensore del Milan. Le alternative sono Canini e Ariaudo. Boacì va al Roda e Cacia è più vicino. Poi si parla del torneo del Memorial Sibiglia. Oggi il via a Zanni. In basso Fiorillo aspetta il bomber. Cacia fa la differenza. Il portiere parla anche del caso Salamon. Mi dispiace per Bartosz, ma è irrinunciabile l'offerta del Cagliari. Qui vediamo le foto di alcuni dei protagonisti di queste ultime ore di mercato. Il tecnico Oddo e poi i due difensori su cui il Pescara vuole puntare per puntellare il reparto. Cristian Zaccardo e Michele Canini. Chiaramente bisogna andare a tappare quel buco lasciato dal mancato arrivo di Bartosz Salamon. Allora, intanto andiamo a vedere le immagini dell'ultimo test precampionato del Pescara contro un'altra abruzzese, ma di Lega Pro, ovvero l'Aquila. Si è giocato sabato sera. Il tecnico Oddo ha voluto provare l'undici che verosimilmente scenderà in campo a Livorno. Ho tenuto conto che tra infortuni e le tante squalifiche saranno una decina gli assenti tra i biancazzurri. Quindi sarà una formazione un po' forzata per Oddo e ha voluto saggiare quello che sarà l'undici antilabronico proprio in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima. Il Pescara si è portato in vantaggio con questo sinistro dai 20 metri di Gianluca Caprari. Molto molto preciso alla sinistra di Zandrini, nel portiere aquiliano Zandrini, ma dopo pochi minuti l'Aquila ha pareggiato con questa discesa di San Domenico il suo cross in mezzo, il gol di De Sousa che ha segnato appunto con questa scivolata tapinna porta vuota. Il gol partita è arrivato nella ripresa. Vedete la bella forta delegazione dei tifosi aquilani sulla curva sud. Nella ripresa è stato il solito sindaco Marco Sanzovini a decidere la partita. Bello il triangolo con Caprari. Primo tentativo respinta di Zandrini. Secondo tentativo a segno per il centravanti biancazzurro. Dunque Pescara che si è imposto sull'Aquila per 2-1. Questo è il fischio finale e nel dopo partita ha parlato il tecnico Oddo. Ovviamente si è parlato di mercato, si è parlato e sentiremo un suo giudizio anche dell'ultimo arrivato in casa biancazzurra il centrocampista libico ex Brescia che arriva dal Palermo, Ahmad Ben Ali. Un acquisto che ha soddisfatto tantissimo il tecnico biancazzurro. Ascoltiamolo. E' il centrocampista che cercavamo con quelle caratteristiche. A dire la verità, ovviamente lui essendo stato preso in questa sessione di mercato in scadenza dal Palermo, io lo conoscevo bene, so quali sono le sue qualità ma non avevo mai pensato a lui perché per me era impossibile arrivare a un giocatore così. Sì, perché ovviamente è un giocatore che fa molto bene in B, tra l'altro in una squadra che comunque è retrocessa e fa nove gol mi sembra, ma tanti in altri anni ha sempre segnato e va a Palermo in Serie A. Non lo reputavo un giocatore, ma tutti noi non lo reputavamo un giocatore accessibile. Invece la coincidenza ha voluto che una parola dietro l'altra ci potesse essere questa possibilità e sicuramente è un giocatore molto forte che va a rinforzare un centrocampo a mio avviso già molto forte e che lo completa a livello di caratteristiche. No, sono l'infrancato più che altro perché è una situazione di mercato difficile dove vuoi prendere qualcosa, magari non ci riesci, non sai cosa prendere e ovviamente dal momento in cui è stato preso un certo tipo di giocatore almeno so di che morte dobbiamo morire. Non avete capito, no? Se fosse stata un'altra scelta, se Benali non fosse arrivato, se Giorgi non fosse arrivato avrei dovuto cambiare ovviamente tutto perché gli obiettivi di mercato sarebbero cambiati. Ci mancano dieci giocatori e quindi inevitabilmente bisogna provare qualcosa. Ho provato qualcosa nel primo tempo, qualcosa nel secondo tempo e purtroppo mancano tanti giocatori soprattutto a metà campo bisogna fare i necessi da virtù, non deve essere un alibi assolutamente per noi dobbiamo preparare questa partita per andarla a vincere a prescindere dai giocatori che ci sono poi cercando di fare il meglio possibile perché tutti i giocatori che ho in questo momento sono tutti giocatori bravi magari mi ritrovo con giocatori con caratteristiche diverse da quelli con cui costruirei un centrocampo ma comunque sono tutti giocatori bravi Valotti sta lavorando, non l'abbiamo rischiato questa sera ma si sta allenando e pensiamo di averlo per la prima del campionato Io credo che qualcosa si incomincia a vedere quelle giocate ravvicinate tra le punte, tra i quartisti poi la difficoltà di avere giocatori che magari sono infortunati non puoi metterli assieme più di tanto poi è difficile comunque dare continuità però io credo che tutto sommato alcune idee di gioco si incominciano a vedere dalla costruzione che cerchiamo di fare da dietro pur sbagliando ma io gli chiedo questo, oggi gli ho chiesto sbagliate non mi interessa ma non voglio vedere un ancio lungo ne hanno fatti due ma ci può stare Queste dunque le parole del tecnico biancazzurro Massimo Otto proseguiamo la nostra rassegna stampa due pagine ancora dedicate al Teramo e alle prime reazioni dopo la sentenza d'appello ufficializzata nella serata di sabato Pugno di ferro della Federcalcio sposata le tesi dei PM la giustizia sportiva fa sue le accuse della magistratura e punisce era inimmaginabile che i giudici della Federcalcio potessero sconfessare il lavoro svolto dai PM di Catania e Catanzaro in Camera di Consiglio si è discusso tra D e Lega Properi Biancorossi non di B ci sono anche le parole del DG dell'Ascoli-Lovato che ha parlato ieri mattina in conferenza stampa la nostra è la B degli onesti e poi in basso le reazioni della città i tifosi a Campitelli ripartiamo insieme il popolo biancorosso si compatta sui social ci riprenderemo la serie B qui una foto eloquente del presidente Campitelli che va via dallo stadio una volta appresa la notizia appunto sul verdetto del processo d'appello Campitelli non ha mai parlato davanti alle procure mentre le dichiarazioni dei tesserati compresa quella del medico non sono state ritenute credibili nel girone B forse prenderà il cammino della Y va ufficializzato ma è probabile che il teramo venga rimesso come lo scorso anno nel girone B che è poi quello dove è stata reinserita anche l'Aquila intanto già si deve parlare di futuro perché il campionato è lì insomma da venire Vivarini potrebbe restare ma i big hanno già le valigie giovedì la dirigenza illustrerà le mosse ma Campitelli assicura io non mollo la origine è Di Matteo verso Lanciano anche Donnarumma e Bartolomei via e poi in basso per la Lega Pro l'Aquila fa un po' i conti in arrivo penalizzazione tra gli 11 e i 17 punti intanto torna Maccarone insomma per entrambe l'Abruzzesi sarà un campionato a dir poco in salita perché ci saranno penalizzazioni una già c'è per il teramo meno 6 l'Aquila per le varie responsabilità oggettive imputabili all'ex dirigente Di Nicola avrà un numero di punti di penalizzazione che oscilla appunto come vediamo tra gli 11 e i 17 e anche arrivare alla salvezza con questo fardello non sarà facile quindi insomma bisogna essere anche mentalmente pronti ad affrontare questa situazione il Lanciano che blinda le fasce proprio con i due giocatori che arrivano dal Teramo Rigione e Di Matteo il Teramano Donnarumma e Ferrari del Modena le alternative per l'attacco corsa per il portiere in ballo Cragno e Gomis ma non è escluso il ritorno dal Latina di Farelli e oggi la FIGC si pronuncia sulla deroga all'utilizzo del Biondi e poi ancora giovedì in piazza ci sarà la presentazione di squadra e divise D'Aversa contro la Provercelli con il 4-3 domenica al Vio il campionato Petrone dell'Ascoli, Vivarini e i suoi ragazzi vittime degli errori del Teramo peraltro domani dovrebbero essere presentati proprio i due giocatori in arrivo dal Teramo Rigione e Di Matteo e a proposito di Lanciano andiamo ad ascoltare le parole del tecnico rosso-nero Roberto D'Aversa dopo la gara vinta ieri in Amichevole contro l'Ascoli 1-0 Sì, nel senso che c'è la crescita dell'autostima quando si rincuono le partite quindi bisogna iniziare a creare una mentalità e questo si deve fare già la rivevole perché con la settimana inizia il campionato è positivo Visto in che tempi, come li giudica? Nel primo tempo? Io penso che considerando il valore dell'avversario penso che abbiamo fatto bene a prescindere in tratti tempi il primo penso che abbiamo fatto bene abbiamo successo poco abbiamo cercato di fare quello che proviamo in allenamento anche se spesso siamo stati un po' frettolosi alcune cose abbiamo sbagliato però ripeto è positivo sia il primo tempo che il secondo il primo magari un po' più sotto l'aspetto del gioco e il secondo l'aspetto del risultato e dà determinazione e poi che comunque si è vinta la partita hai mischiato un po' le carte tra primo e secondo tempo e già sono scelte diciamo non dico definitive ma abbastanza virate perché ti sembra che secondo il tempo si avvista un po' più consistenza in campo ho già prestabilito inizialmente il minutaggio da dare gambe e oggi è ai ragazzi e quindi ho pensato di fare un po' sia il primo che solo tempo con un'organizzazione equilibrata sia nel primo che nel secondo tempo però ripeto in questo momento è importante sia risultato per alcuni aspetti per appunto creare quell'atteggiamento giusto per il campionato ma è soprattutto anche importante stare a dare il montaggio al punto giusto e preservare anche i problemini che qualcuno poteva avere e quindi pensare anche alla condizione fisica che è molto più importante cosa si è aspettato domani ma io penso che di mercato se ne avrebbe appalato fin troppo e di risurre la società ma sì sicuramente quello è un aspetto negativo per i miglioratori il fatto che si possa approfondare il calcio al mercato però considerando quello che è successo l'anno scorso penso che sia anche giusto perché l'anno scorso Vicenza penso che abbia tratti che mette ricipano il fatto che si è stata l'unica scuola a poter ancora fare le operazioni che mi hanno fatto però non dobbiamo avere fretta chiaramente vanno fatte delle scelte giuntate e aspettiamo ma siamo tranquilli insieme saremo pronti queste le parole dunque del tecnico Roberto D'Aversa andiamo a vedere la serie D con le squadre abruzzesi che sono pronte all'inizio della stagione intanto oggi a Milano Consiglio Federale il campionato slitta ci saranno tante valutazioni importanti da fare leggiamo insieme stamattina si riunisce il Consiglio Federale che valuterà i ripescaggi e le riammissioni delle squadre dei vari campionati e potrebbe decidere d'ufficio il rinvio dei campionati di Lega Pro e Serie D in attesa dei ricorsi al CONI delle società coinvolte nei processi sportivi chiaramente anche il Teramo potrebbe fare ricorso al CONI in caso contrario se il campionato inizierà regolarmente domenica prossima domani verranno ufficializzati i gironi e i calendari una situazione surreale che non ha precedenti questo appunto per quanto riguarda la Lega Pro e in particolare la Serie D che deve vedere ancora definiti i gironi intanto Chieti multi-etnico ma con tanti rebus in rosa ci sono 11 giocatori di 6 nazionalità diverse a Ron ci servono certezze presso il centrocampista Navarro caccia caccia il bomber Giuliano nel Merino c'è 5 l'ex attaccante del Chieti Lorenzo 5 Avezzano Lucarelli è una rossa di alto livello ma deve gestire l'abbondanza il retroscena per quanto riguarda la Miternina il patron Papponetti dice una cordata campana voleva la Miternina e poi per il San Nicolo parla il DS Micciola la squadra in crescita all'inizio del torneo Slittera annuncia già il DS del San Nicolo Micciola per il campionato di eccellenza o meglio per la Coppa Italia per la squadra di eccellenza di Pietro Colla Vastese passa il turno avanzano anche Martinsicuro Pineto Miglianico Angolana e San Salvi il 9 settembre si decideranno i triangolari andiamo a vedere la pagina sui giochi sulla spiaggia giochi del Mediterraneo tre ori per gli azzurri di nuoto e canoa ma gli attenti francesi si scatenano nelle altre prove in acqua oggi le semifinali del Beach Tennis duello Italia Slovenia e domani parte il Beach Volley con la Pescarese Lestini i fratelli di Marcello partono forte nel Beach Handball la squadra italiana proprio trascinata dai giocatori Terramani e l'Italia liquida Albania e Algeria il basket Allen e Monaldi stelle di Roseto e Chieti l'americano degli Sharks da subito spettacolo Trullo dice è un grande il play teatino dichiara amore alla Proger voglio i playoff per la Serie B Orton e Campli in campo sfida tra schemi e infortuni le formazioni abruzzesi impegnate nella preparazione pre-campionato l'amatori si prepara all'amichevole con il Roseto Giulianova stop per De Angelis vasto basket Conad secondo sponsor giovedì test con Lisernia in basso Di Carmine alla Magic Terramo prende ferri ecco i colpi di mercato in Serie C oggi inizia la preparazione dell'Aquila la Torre Spess cerca dei rinforzi andiamo a vedere il messaggero Abruzzo ripartiamo dal Pescara Pescara il giorno di Cacia presentata l'offerta all'attaccante del Bologna che oggi darà la risposta ai Biancazzurri mentre Boacì va al Roda per la difesa avviata la trattativa con Ariaudo del Sassuolo Pelitzer resta in stand by Ciosic vicinissimo all'Empoli le parole del portiere Fiorillo tante novità ma siamo ancora forti verso il debutto a Livorno emergenza totale per Oddo come abbiamo detto mancheranno una decina di giocatori tra infortunati e squalificati dovrebbe arrivare l'ok per Caputo ma il mercato potrebbe essere prorogato di una settimana e questo appunto lo si saprà nel corso della mattinata quando ci sarà il Consiglio federale che dovrà appunto prendere una decisione a tal proposito MotoGP non è deluso una giornata non positiva solo Ottavo il Vastese ma almeno avvicinato il terzo posto nel mondiale poi ancora Teramo il futuro è adesso si valuta l'utilità del ricorso Alconi Biancorossi verso il girone B di Lega Pro i giudici esiste un sistema parallelo dopo la grande amarezza Campitelli pronto a continuare la società è già al lavoro le reazioni i tifosi si dividono la condanna è una macchia ma resta una certezza avevamo vinto sul campo la città ancora sotto shock vede svanire un sogno si aspettano anche le decisioni del tecnico Vivarini sul fronte l'Aquila la sentenza d'appello su Di Nicola fa sperare l'Aquila intanto la dirigenza prova a completare la rosa dei titolari di questo e di altro ha parlato sabato sera in conferenza stampa dopo la amichevole di Pescara il tecnico Carlo Perrone Sì noi dovevamo insomma misurarci con una squadra superiore alla nostra per capire una settimana dall'inizio del campionato come come era la condizione com'è la qualità dei nostri giocatori l'organico diciamo che sono emerse delle note positive delle altre diciamo un po' meno e quindi questo ci dà maggiore convinzione di dove dobbiamo andare a operare la squadra sicuramente la dobbiamo completare però credo che è una squadra che se puntellata bene possa disputare un buon campionato noi dobbiamo cercare di far quadrare purtroppo allestire una squadra di Lega Pro non è facile perché ci sono tante componenti che devono essere prese in considerazione noi abbiamo dovuto anzi dobbiamo tuttora abbassare i nostri costi dobbiamo mettere nell'organico 10 under e dobbiamo fare una squadra che debba essere più forte anche delle eventuali penalizzazioni e abbiamo questo rapporto con il Pescara della quale quindi sono tutte componenti che spero che possa essere possibile realizzarle tutte ecco le posso dire noi adesso diciamo è certo abbiamo 7 under noi dobbiamo prendere altri 3 e dobbiamo completare un po' la rosa nei vari ruoli per cui poi ma diciamo che io non escludo niente zero sì sì va bene però questo è diciamo il secondo grado è l'appello poi ci sarà il terzo grado e poi ci sarà l'altro processo proseguiamo e andiamo proprio alle battute finali della nostra rassegna stampa una buona Virtus si impone sull'Ascoli prestazione positiva dei rossoneri a una settimana dall'inizio del campionato decide un gol di Lanini in avvio di ripresa bene i giovani Rozi e Di Filippo la squadra cresce e comincia a ritrovare le proprie certezze buon debutto per Pucino la vittoria aumenta l'autostima queste le parole di D'Aversa di Francesco stiamo smaltendo i carichi di lavoro e dal Teramo arrivano Rigione e Di Matteo ancora da risolvere il problema del portiere ora si parla anche di Gomis che potrebbe essere un'alternativa ad Alessio Cragno è diventata una vera e propria telenovela quella con il portiere di proprietà del Cagliari basket Brian è ambizioso roseto da playoff il ritorno del centro l'ingaggio di Weaver galvanizzano l'ambiente Di Sante siamo molto contenti della squadra che abbiamo costruito giocheremo per vincere sempre quest'anno sarà un torneo diverso dice Silver Brian per la Proger Chieti parlano il coach Galli e il presidente di Cosmo questa Proger saprà divertire procede bene la preparazione dei teatini chiudiamo con il calcio a 5 leggero del Pescara tutto facile il bello viene adesso il Pescara è rientrato in Italia dopo aver dominato il girone eliminatorio della UEFA Futsal Cup prossimo appuntamento è la Supercoppa italiana vogliamo centrare il primo trofeo della stagione e prenderci una rivincita sull'asti finisce qui dunque mattino 6 vi ricordo le edizioni del TG alle ore 14 alle ore 19 poi questa sera in replay come detto seguiremo le ultime ore del calcio mercato anche se insomma c'è l'eventualità di una proroga di almeno una settimana sicuramente la proroga ci sarà per le squadre che sono state che saranno ammesse dal Consiglio federale in serie B in quanto ripescate l'Entella in particolare come ripescata l'Ascoli come neovincitrice del campionato di Lega Pro dopo il verdetto sul terreno ma potrebbe esserci una proroga di una settimana per tutte le squadre di serie B e Lega Pro ma lo si saprà solo nel corso del Consiglio federale di quest'oggi comunque l'appuntamento a stasera con Replay per tutte le ultimissime di mercato intanto io ringrazio voi per l'attenzione ringrazio anche Gianni Lareo in regia vi auguro una buona giornata per la Grazie a tutti